grande fratello vip solei gelosa del bacio di alex a delia la famosa sopopera creata ad arte dal trio alex delia e solei sembra non aver mai fine ogni giorno il terzetto ci riserva qualche sorpresa soprattutto da quando il nostro alex è rientrato come ospite nella casa del grande fratello vip in men che non si dica l'attore parmense ha fatto capitolare la moglie delia duran con le sue solite frasi ad effetto è riuscito a far pace con la modella venezuelana tutto è accaduto dopo la diretta di lunedì scorso ebbene la riappacificazione dei due coniugi non pare essere andata giù alla nostra solei e quindi ecco arrivare la più classica delle scenate di gelosia come tutte le telenovelas che si rispettino solei ha voluto sottolineare al suo amico artistico come secondo lei le cose vadano risolte completamente e non sviate sembra chiaro il fatto che alex abbia si fatto pace con delia ma non abbia risolto i problemi che li avevano portati ad allontanarsi non solo la nostra solei ha pur fatto presente ad alex come lui si freni quando c'è delia insomma a suo giudizio lui non sarebbe se stesso di fronte alla duran stando quindi a quello che possiamo ribattezzare il solei pensiero alex per essere coerente e vero dovrebbe continuare a comportarsi con solei come aveva sempre fatto prima della squalifica in pratica dovrebbe continuare ad abbracciarla a darle baci artistici e tutte quelle cose lì la 27enne italo americana in parole povere vorrebbe avere con il suo amico artistico lo stesso rapporto di prima la ragazza ha pur confessato di fare fatica a trattenersi se dovesse seguire il suo istinto abbraccerebbe alex proprio come ha fatto durante l'ultima diretta ed invece ora le tocca moderarsi visto che lui sembra essere più preoccupato per il benessere di delia che di lei ed ecco che le parole di solei sembrano far pensare ad una sorta di ultimatum vuoi calibrare per riconquistare lei allora chiudiamo io e te vuoi che delia sia tranquilla ok allora chiudi con me è l'unica soluzione o mi sento libera di tornare al nostro rapporto di complicità o nulla a me nascondere tutto manda in tilt delia andrà in crisi se ti avvicini a me la nostra solei non contenta ha poi continuato con queste parole mi sono rotta di pensare agli altri voglio la tua felicità e questo è vero però se questo vuol dire limitare il mio rapporto con te allora lo annulliamo a questo punto non ne vale la pena di averti nella mia vita se qualcuno ci capisce qualcosa è bravo sta di fatto che al momento alex sembra quasi divertito nel trovarsi conteso tra due donne in tutto questo caos mister belli ha avuto da ridire anche subaru secondo l'attore il nipote di costantino avrebbe paura di avere un confronto con lui ma perché si sarà convinto di questo di certo anche nei prossimi giorni il nostro alex non ci farà mancare qualche altra sua perla forse qualcuno non vede l'ora di sentire qualche suo monologo sull'amore anche voi non sarebbe ora di finire questa pagliacciata a voi i commenti se il video ti è piaciuto metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti ciao 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 ciao